Paul è degli insuperabili dopo questo pareggio arrivato all'ultimo secondo, che bello, avete festeggiato? Sì, oggi è una bella giornata perché noi giochiamo bene, prima partita ha perso, adesso la seconda partita vinciamo, anch'io sono contento, insuperabili, giochiamo insieme, una squadra benissimo. Senti, si vede che siete un bel gruppo, state bene insieme, vuoi bene i tuoi compagni di squadra? Sì, sì, che bello perché io sono contento con ragazzi insuperabili, giochiamo insieme, proviamo insieme, è meglio, poi giriamo insieme e dopo giochiamo partita, quello è meglio. Siete belli e bravi, senti Paul alla fine per poco non fai anche gol, sei stato bravo, ti sei smarcato dentro l'aria, peccato che quel tiro è andato alto, però sei forte. Sei forte, grazie, ma oggi io non ho fatto gol ma io ho due assist per il mio compagno e dopo lui ho fatto gol. Bravo. Sono contento, sì. Due assist valgono quasi quanto un gol, forse anche più importanti. Grazie Paul, bocca al lupo. Grazie, ciao.